Se vuoi organizzare la tua vacanza, scegli Trezza Travel, agenzie per viaggiare. Chiedi la consulenza di Trezza Travel, agenzie per viaggiare e vieni a trovarci in via Balzico 51, nei pressi degli uffici dell'Ausino. L'amministrazione attivi la cosiddetta filiera istituzionale, in particolar modo con il governatore Vincenzo De Luca, per sbloccare la vicenda del contratto di quartiere che ridisegnerà il volto della frazione di pregiato. E' questo l'appello lanciato dalla consigliera comunale di Fratelli d'Italia, Clelia Ferrara, all'amministrazione Servalli, nel corso dell'ultima riunione del parlamentino cittadino metelliano, durante la quale si è discusso anche sullo stato dell'arte del progetto, avviato nel 2003 con l'amministrazione Messina e che è risultato beneficiario di un finanziamento ministeriale di 10 milioni di euro, a cui si aggiunge un mutuo di un milione e mezzo di euro acceso dal comune. Nello specifico, l'intervento prevede l'abbattimento del ponte incompiuto ed altre importanti opere che riguardano la viabilità, tra cui la realizzazione di un nuovo tratto dell'asse medio collinare che collegherà via Salsano a via Santorillo, decongestionando il traffico veicolare in via Luigi Ferrara. Prevista inoltre anche la costruzione di alcuni alloggi di edilizia residenziale. A bloccare il tutto, però, è la questione che riguarda l'ex e-pub dell'asilo pastore Salsano di Pregiato, struttura situata nel cuore della popolosa frazione metelliana e che versa in una condizione di degrado dopo il terremoto del 1980. Infatti, rispetto al progetto originario che prevedeva la realizzazione di un centro polifunzionale nell'area sottostante la piazza Galdi, fu deciso di dirottare i fondi sul recupero del prestigioso immobile che rappresenta un pezzo di storia importante della frazione. A gestire l'istituzione, però, è la Regione. In questi mesi l'argomento è rimasto sospeso in quanto si attendeva la nomina di un nuovo commissario straordinario, cosa che invece è avvenuta da qualche mese. Proprio per questo la consigliera Clelia Ferrara ha chiesto all'amministrazione di accelerare i tempi per avere un incontro con il neocommissario per definire la situazione. Dico all'amministrazione che questa filiera politica che c'è, con un presidente che nomina un commissario, un commissario che non si è visto le carte di questa struttura, non andiamo avanti con il progetto. La colpa sicuramente non è di chi ci ha lavorato fino ad oggi, anzi, io sono arrabbiata, perché se un presidente che ha un rapporto con il PD, ha un collegamento politico, non ci aiuta in questo momento a sbloccare questa situazione, voglio dire la colpa a me e di questa amministrazione. Io spero veramente che si faccia il possibile per andare avanti, però quello che diceva l'assessore Bastolla è di non fare promesse. Qua non c'è colore politico, io lo sto dicendo, le cose importanti per la città non hanno nessun colore politico. Infatti adesso faremo un lavoro in tandem con la consigliera comunale Clelia Ferrara per cercare adesso di vedere una soluzione. Stiamo cercando di adempiere a ciò che ci è stato richiesto. C'è purtroppo, non so se tutti lo sanno, c'è purtroppo la questione annosa dell'IPAB, dell'asilo Bastolla. Adesso stiamo in una fase di colloquio con la regione, il commissario Domenico Renella, per far sì che ci venga restituito, che venga data la competenza al comune e cercare un attimino di poi procedere all'inizio dei cantieri.